Ciao Giulia Electra, io sono il salutatore. Ti chiedo un saluto per tutti i tuoi fan. Ciao ragazzi, andate a sapere al cinema, connessi. Connessi, straordinario, grande emozione, amore, risato e c'è tutto quanto, anche tu bravissima. Prego te lo meriti, ricordiamo dove ti trovano sul social visto che parliamo di connessi. Giulia Electra Go. Dove ti trovano? Su? Ah, Instagram. Su Instagram, tra poco facciamo una foto, tanti like, mi raccomando. Che c'ho 22 febbraio al cinema, connessi. Ciao.